Sono entrati in campo dal primo minuto con una grande determinazione, il risultato non è mai stato in dubbio. Che partita si è giocata oggi Luca? Questa squadra dei giocatori di grande qualità, con cui riesce spesso a sfondare proprio per vie centrali, mettendo gli avversari in grande difficoltà. Siamo ai saluti finali, un doveroso ringraziamento a Luca Marcheggiani. Sono io che ringrazio te Fabio. Grazie. 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 Grazie.